Oggi esploreremo insieme il mondo del cervello umano. Il cervello è un organo incredibile e pieno di misteri, e sono sicuro che questi 10 fatti sorprendenti vi lasceranno a bocca aperta. Quindi, senza ulteriori indugi, iniziamo! 1. Il peso del cervello Cominciamo con un dato interessante. Il cervello umano pesa in media circa 1,4 kg. Nonostante rappresenti solo il 2% del nostro peso corporeo totale, consuma circa il 20% delle nostre risorse energetiche. È davvero un piccolo ma potente organo. 2. Le sinapsi nel cervello Il cervello umano contiene un incredibile numero di sinapsi, che sono i collegamenti tra i neuroni. Si stima che ci siano circa 100 trilioni di sinapsi nel cervello umano. Questa rete di connessioni è ciò che permette al nostro cervello di elaborare informazioni e pensare in modo complesso. 3. La velocità delle informazioni La velocità di elaborazione delle informazioni nel cervello è incredibilmente rapida. I segnali nervosi possono viaggiare a velocità fino a 400 km orari. Questo significa che il tuo cervello può elaborare informazioni più velocemente di quanto tu possa chiudere gli occhi. 4. La plasticità del cervello Il cervello umano è estremamente plastico, il che significa che può adattarsi e cambiare nel corso della vita. Questa capacità di plasticità consente al cervello di imparare nuove abilità, adattarsi a situazioni nuove e persino compensare le lesioni. 5. Le energie consumate dal cervello Nonostante il suo piccolo peso, il cervello umano richiede molta energia. Consuma circa 20 Watt di potenza, il che è sufficiente per alimentare una lampadina a basso consumo energetico. Quindi, la prossima volta che pensate che il cervello sia solo una massa grigia, ricordate che è un vero e proprio consumatore energetico. 6. Emozioni e decisioni Le emozioni giocano un ruolo importante nelle decisioni che prendiamo. Degli studi hanno dimostrato che quando la parte del cervello coinvolta nelle emozioni viene danneggiata, le persone trovano difficile prendere decisioni, anche se hanno tutte le informazioni necessarie. Il cervello e le emozioni sono strettamente legati. 7. Sinestesia La sinestesia è un fenomeno interessante in cui una persona percepisce una stimolazione sensoriale in modo incrociato. Ad esempio, potresti vedere numeri colorati o associare suoni a colori. Questa condizione può essere sorprendente e affascinante, dimostrando quanto sia complesso il funzionamento del cervello umano. 8. La memoria superiore Il cervello umano ha una capacità di memoria incredibile. Si stima che possa immagazzinare da 1 a 2,5 petabyte di informazioni, il che è equivalente a circa 3 milioni di ore di video in alta definizione. La tua mente è davvero una biblioteca virtuale. 9. Sonno e cervello Il sonno svolge un ruolo essenziale nel funzionamento del cervello. Durante il sonno, il cervello riposa e rafforza le connessioni neurali, consolidando la memoria e preparandosi per una nuova giornata. Quindi, assicuratevi di avere una buona notte di sonno per mantenere il vostro cervello in forma. 10. Il potenziale inesplorato Nonostante i progressi nella ricerca sul cervello umano, c'è ancora molto che non conosciamo. Il cervello è uno dei più grandi misteri dell'universo, e gli scienziati continuano a scoprire nuovi fatti e fenomeni sorprendenti. Questi erano i 10 fatti sorprendenti sul cervello umano. Se il video ti è piaciuto ricordati di lasciare un like, condividilo con i tuoi amici e non dimenticare di iscriverti al canale per altri contenuti interessanti. Ci vediamo presto con nuove curiosità.